Maria Teresa, ciao, spero che tu stia bene dopo quasi 5 mesi nella casa dei grandi fratelli, un'avventura davvero eroica, ma tu sei amatissima. La vicenda legata ad Alain Delon, i ricordi, la disputa fra prime donne dello spettacolo, quale sei tu con Alba Parietti, mi hanno fatto pensare sul nostro rapporto passato, anche sul discorso legato alla gelosia. Quasi come se tu raccontandomi del corteggiamento che subisti da parte di Alain Delon, così come il ballo Galeotto Montecarlo con Alberto di Monaco, volessi mettermi un po' alla prova, provocarmi e la mia esibizione di scarsa gelosia probabilmente ti fece arrabbiare. Non è che io non fossi geloso, però volevo che tu potessi esprimerti in quella che era la tua carriera, non ti negassi nulla di quelli che potevano essere i tuoi viaggi, i tuoi incontri anche con persone importanti, so quanto per una donna non cedere alle lusinghe di personaggi illustri sia difficile. Io ho sempre fatto un po', io credo, quello di non essere geloso, di essere molto liberale e molto tollerante. Forse ho sbagliato, non lo farei più, così come chiaramente non farei più tante cose che invece hanno contribuito a rovinare il nostro rapporto. Grazie a tutti.